Musica Do il benvenuto a Gaia Bucciarelli e Francesca Iacchia che arrivano dal Piacentino, esattamente Pianello Valtidone dall'azienda agricola dei vini di Santa Giustina. Benvenute. Grazie. E allora intanto un pensiero al maltempo, perché insomma la stagione come è andata? La stagione è stata decisamente molto difficile, sicuramente siamo riusciti a salvare la vendemmia grazie a quei pochi giorni di sole che abbiamo avuto ad ottobre e tutto sommato è andata anche bene, qualche problema di frane, di smottamenti, però per fortuna ce la caviamo. Ecco, voi producete 16 etichette di vino, tutti i vini piacentini, quindi proprio quelli tradizionali della zona. Sì. Come saranno l'anno prossimo? Saranno, fortunatamente, incontro al gusto del consumatore che sta un po' cambiando. Si torna a cercare vini un po' più facilmente bevibili, quindi con gradazioni alcoliche un po' più basse e quest'anno, vista la mancanza di sole, contrariamente agli ultimi due anni che sono stati molto ricchi di alcol, quest'anno per fortuna saranno un po' più leggeri. Eh sì, perché sta cambiando un po' il gusto del consumatore negli anni e quindi cambiano anche le aziende. Sì, cambiano le aziende, noi lavoriamo in un modo estremamente naturale, per cui il nostro cambiamento è dovuto principalmente all'andamento stagionale, però effettivamente si cerca di fare vini molto profumati, molto facili da bere, decisamente digeribili. Quindi devono essere vini che accompagnano i piatti ma non li soffocano. Ecco, e Santa Giustina, mi piace sottolinearlo, è un'azienda tutta al femminile praticamente. Assolutamente sì. Come nasce questa azienda così tutta al femminile che non è consueta insomma in questo settore? Beh no, per fortuna le donne stanno aumentando sempre di più in un settore che è sempre stato prettamente maschile, ma in effetti si parla sempre di cambi generazionali. Nel nostro caso ha cominciato mio padre, da buon uomo giustamente, e si è poi trasferita a me. Molte aziende della nostra zona, ma non solo, si stanno con la generazione successiva diventando tutte principalmente femminili. Ecco, la rivincita del dono. È un po' una rivincita. È anche un bene perché il gusto della donna è un po' più delicato, per cui anche questo sta rispecchiando l'andamento dei gusti delle persone. Indubbiamente. Ecco, l'importanza di una figura da cui non si può naturalmente allontanarsi è quella dell'enologo in cantina, no? Sì. Ovviamente le grandi cantine hanno anche, nella maggior parte dei casi, grandi enologi che sono quelli che poi determinano realmente la qualità del vino, o sbaglio. Sì, assolutamente. Quindi il loro lavoro non è semplice? No, il loro lavoro è estremamente complicato, anche perché qualsiasi microerrore viene poi a loro imputato. Noi abbiamo un enologo uomo. Quindi grandi responsabilità, insomma. Sì, sì, sì. Lui è molto bravo perché qualsiasi tipo di problema riesce sempre a risolverlo. Si chiama Carlo Saviotti, è un enologo di Broni, quindi leggermente fuori zona rispetto a noi, ma è specializzato principalmente sulle bonarde, che sono molto difficili. Anche quella è un vino principalmente di gusto femminile, molto delicato, molto morbido. ha questo gusto molto fruttato, per cui tende a sembrare dolce. Ha anche delle difficoltà enologiche di gestione, perché è appunto un'uva molto delicata e quindi deve essere trattata con estrema delicatezza. Poi effettivamente ogni cantina dà la sua direzione di gusto e quindi l'enologo deve seguire un po' anche il gusto della cantina stessa. Ecco, Francesca Iacchia, ma è importante, voglio dire, calare anche la cantina in una realtà, che è quella, per esempio, della Valle, della Valtidone, che appunto vi vede protagonista insieme a tante altre cantine, perché è una zona vocata alla produzione vitivinicola. E quindi è importante anche mantenere contatti con strutture pubbliche per incrementare il turismo, perché il turismo vitivinicola, insomma, sta diventando sempre più importante. E quindi voi partecipate a manifestazioni? Noi partecipiamo a manifestazioni e siamo spesso promotori di manifestazioni, dove cerchiamo di coinvolgere il più possibile la rete del territorio. Cerchiamo di trasmettere queste informazioni anche al pubblico, o comunque a chi fruisce delle visite in cantina. Organizziamo per questo spesso eventi che coinvolgono appunto varie eccellenze del territorio. Ci occupiamo comunque anche a Santa Giustina non solo di fare vino, che è già cultura, ma di proporre cultura per i bambini, per le famiglie, per i giovani, perché all'interno del nostro borgo antico ci permettiamo di ospitare manifestazioni di vario genere. Vini che però non vengono diffusi soltanto sul territorio, perché ci sono anche vini da esportazione. Assolutamente sì. Tutti vengono anche esportati o solo alcune etichette? Noi abbiamo una filiera corta per cui produciamo le nostre uve, le vinifichiamo e le imbottigliamo. E la nostra linea di produzione è una sola. Non siamo poi così grandi da poterci permettere di fare diverse linee. E una parte viene comunque esportata negli Stati Uniti, dove ha un grandissimo riscontro, un bellissimo successo, soprattutto nel mercato dei vini naturali e biologici. Quindi noi non aderiamo alle normative del biologico, ma lavoriamo in direzione biologica. E questo è più facile spiegarlo all'estero che non in Italia. All'estero c'è un po' più di fiducia nei confronti del produttore stesso, piuttosto che di un'organizzazione. E all'estero che tipo di vini richiedono in particolare? Molto profumati, leggeri sempre, comunque leggeri parliamo di 12 gradi, 12 gradi e mezzo, ma vini molto di impatto, soprattutto al naso. Vogliamo ricordare che il vino italiano più conosciuto e esportato all'estero è il Lambrusco. Assolutamente sì. Per capire un po' qual è il gusto, no? È un vino infatti molto fruttato, profumato e comunque leggero. Ah beh certo, quindi è quella un po' la tendenza. Sì, è un vino piacevole che si può consumare in qualsiasi momento, che può essere accompagnato o meno da un piatto. spesso gli americani definiscono il nostro ortrugo come il vino da patio, proprio da prendere durante l'estate con un leggero aperitivo al fresco, all'ombra magari del terrazzo, stanno lì a godersi le nostre bollicine. Indubbiamente. Magari le assaggiamo anche noi dopo. Eh beh sì, qui abbiamo addirittura una magnum. Eh sì, questo è un 3 litri, è un doppio magnum, un mogeroboam, è uno dei formati grandi che proponiamo. Quest'anno abbiamo proposto anche il 12 litri, che è per gruppi importanti. Attenti a non farlo cadere. No, esatto. Va bene, ok, ringraziamo le nostre ospiti, molto gentili, e poi insomma hanno anche attivato una certa curiosità nei confronti della Valtidone, che appunto è veramente l'ultima valle del Piacentino verso il Pavese. Un luogo magnifico, pieno di cantine, dove tra l'altro hanno deciso di elevare la loro residenza estiva o comunque di campagna, anche grandi personaggi, grandi giornalisti, scrittori. Insomma, è veramente un bel giro quello che si è creato negli ultimi anni in Valtidone e in questo giro c'è naturalmente anche la Cantina Santa Giustina. Grazie, grazie a Gaia Bucciarelli, che è la titolare della cantina, e a Francesca Iachia. Grazie a voi. Una breve pausa e poi di nuovo ospiti a ore 12. Grazie a tutti.